Comincia un altro campionato, stavolta non si gioca sul campo ma le partite si spostano sui tavoli del club e sono partite fondamentali per il futuro dello stesso. Archiviata la stagione sportiva c'è ora da capire cosa ne sarà del Foggia di qui a poco o meglio c'è da comprendere come e con chi si ripartirà. Il primo fondamentale tassello da fissare è la guida della squadra e dell'area tecnica. Zeman e Pavone per intenderci resteranno in sella o il progetto tecnico passerà in altre mani? Prematuro in questo momento fare previsioni anche perché sia canonico che lo stesso Zeman ha più riprese il boemo lo ha ribadito anche giovedì sera, hanno detto che tutto passerà per un necessario ed indispensabile confronto tra le parti. Se ci saranno le condizioni si andrà ancora avanti insieme, diversamente, stretta di mano ed ognuno per la sua strada. Ciò che è certo è che queste in casa Foggia sono le ore della riflessione. L'incontro tra Zeman e Canonico ci sarà e probabilmente si terrà nella prossima settimana, magari anche lontano da occhi indiscreti. Tutto passa da lì in ogni caso perché con Zeman e Pavone ancora sul ponte di comando tecnico si ripartirebbe garantendo continuità al progetto e con 14 calciatori già sotto contratto che rappresenterebbero peraltro un'affidabile intelaiatura sulla quale innestare puntelli di spessore per puntare alla Serie B. Diversamente si avvierebbe una dolorosa e probabilmente troppo rischiosa opera di ricostruzione che di fatto manderebbe a Ramengo un anno di semina. Sarebbe un errore imperdonabile, al di là di chi poi prenderà la decisione. Incontro decisivo dunque per comprendere da dove ed eventualmente con chi ripartire. Può cambiare tutto e può non cambiare niente ancora pochi giorni. E sapremo.